La ricusazione del PUC e il nuovo avvio della fase preparatoria danno ragione all'associazione Civicamente, che fin da subito aveva sollevato delle criticità rispetto alla prima versione del piano urbanistico comunale. La speranza, le parole dell'architetto Giovanni Montella, è che questa sia finalmente la volta buona. Sembrano che ci siano tutte le buone intenzioni per riprendere uno strumento urbanistico realizzato a suo tempo, cioè poco tempo fa, veramente male, si nota da delle osservazioni, dal fatto che addirittura loro se lo sono ritirato, quindi non c'è più bisogno di parlare sul fatto che lo strumento era fatto effettivamente male. Sembra che ci sia tutta la volontà da parte dell'amministrazione di riprendere il PUC in mano e sistemarlo al meglio rispetto a quelle che sono le esigenze di questa città che sono notevoli. Noi siamo chiaramente pronti per dare la nostra parte, se possa servire, così come abbiamo fatto le nostre osservazioni a suo tempo, sosterremo e appoggeremo l'amministrazione al caso voglia fare gli incontri, così come sta dicendo l'architetto Vitolo, all'interno dei quartieri per recepire effettivamente quelle che sono le esigenze dei cittadini e per riportarle nel nuovo disegno di questo PUC, speriamo bene. Secondo lei quali sono le istanze dei cittadini? Cosa chiede il battipagliese? A parte la necessità di questa città di avere un disegno vero, un'idea di città vera, penso che adesso sia il momento di dare a battipaglia la possibilità di risolvere 3-4 punti fondamentali che sono il famoso traffico, il famoso verde cittadino, la famosa vivibilità di questa città che sembra dimenticata ogni volta che si propone un disegno, invece è diventato un elemento fondamentale. Non dimentichiamo che ormai senza uno sviluppo sostenibile non si può proprio pensare, senza un intervento green non si ragione neanche più, è diventato un elemento fondamentale di tutte le idee dell'uomo ormai, non c'è più sviluppo senza uno sviluppo sostenibile. Quindi possiamo dire che l'obiettivo è che battipaglia diventi una città europea? L'obiettivo, e lo dicevo l'altro giorno in un incontro sul masterplan che si è tenuto ad Agropoli, è paradossalmente la fortuna che battipaglia negli ultimi 30 anni non ha avuto grosse trasformazioni. Paradossalmente questo diventa una fortuna per la città di battipaglia, su cui si può intervenire in maniera forte, decisiva, per tirare una linea definita rispetto a quello che veramente si vuole per questa città. Se si decida che questa città sia una città dedicata al verde, dedicata al commercio, dedicata all'industria, si decide una volta per tutta e si decida di segnare un piano rispetto alle idee fondamentali che si vogliono per questa città. Questo penso che sia fondamentale.